Operazione da parte della Polizia di Stato, che ha proceduto a identificare tutti gli ospiti attualmente presenti a Vicofaro. Analoga attività è stata effettuata anche presso gli alberghi sanitari di Montecatini Terme, dove erano stati trasferiti alcuni ospiti della parrocchia. Ritorno a quella che era l'idea iniziale, nell'incontro che abbiamo fatto in regione, per appunto questa volontà di certamente decongestionare la nostra struttura e trovare altre collocazioni. Purtroppo questa emergenza Covid si abbia in difficoltà, è stata fatta questa operazione, a mia parere esagerata rispetto alle reali condizioni e mettiamo un punto e ripartiamo da capo. Al termine dell'operazione è stato ripristinato regolarmente il traffico nelle strade circostanti della parrocchia e sono state tolte le transenne nella piazza antistante. I ragazzi in questo momento sono quelli rimasti da 10 giorni, sono 27 ragazzi. Ha notizia della struttura di Montecatini? Ancora permangono alcuni ragazzi ancora in Covid positivo, sono sotto controllo, quelli negativi sono stati rilasciati, quindi so che una parte sono stati ospitati questa notte dall'albergatore e adesso probabilmente molti di loro torneranno qui. Se non hanno, io ovviamente li ho invitati a verificare se da amici possono avere ospitalità alternative. Se non riescono a trovare nulla sarà inevitabile che ritornino qui e ricominciamo a ritrovare ambienti alternativi per non lasciare queste povere creature in mezzo alla strada. E così non è un'operazione semplice perché al momento non sembrano esserci di strutture disponibili, però non perdiamo la speranza.